Fab non è per te, non è per te, mi fa anche male il cioccolato, non puoi mangiarlo, amore, amore, dai, basta, non è per te, non è per te, non è per te, è per la mamma e per il bambino. Due secondi, Nibotini arriva a Fedez con il suo house tour, il suo appartamento intero, Valentina Ferragni è tornata da Dubai con Chiara Ferragni, ha fatto Pasquetta qui in giro per Milano. Ecco Fedez a Cuschevel e questo suo appartamento. Vabbè, ancora un po' vuota, però, più o meno, più o meno, c'è il mio tavolino, dentro questo tavolino c'è una banana, però sono tornati loro, il mitico flipperino Degos Buster e sono un campione, devo dire, esattamente, grandissimo. Rata Corrige non è stato preso in affitto all'appartamento, l'ha acquistato, quindi separazione definitiva, ma ciao!